La succulenta pietanza a base di legumi, un tempo non graditissima dai più piccoli, adesso è accolta con gusto anche da loro. Parliamo della tradizionale minestrata di San Giuseppe, che a Favara, nel giorno dedicata al Santo, non può mancare. In mattinata abbiamo fatto visita agli alunni dell'Istituto Comprensivo Mentolo a Vaccaro di Favara, dove grazie al lavoro certosino del personale della scuola e dei genitori sono stati allestiti diversi banchetti ricchi dei piatti tipici della festa. Uno splendido sole ha accompagnato i ragazzi ed i cuochi della scuola che di buon'ora si sono messi ai calderoni al fine di preparare una minestra da contividere con tutti quanti. A benedire il cibo, il parroco della parrocchia dei Santi Apostoli Pietrepaolo, Don Carmelo Lamagra. L'appuntamento odierno, preparato con cura dall'Istituto di Via Grigento, oltre al valore prettamente ricreativo, associa anche quello della tradizione che si tramanda e che sarebbe opportuno non perdere.